Il weekend dovrebbe essere all'insegna del sereno, ma intanto oggi pomeriggio il maltempo è tornato a colpire violentemente il nostro territorio. Un violento nubifragio infatti si è abbattuto poco dopo le 14.30 su città e provincia. Sul pubblico passeggio a Piacenza un grosso ramo è precipitato in strada fortunatamente senza provocare feriti. La strada è stata chiusa e transennata per questioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. Tempestivo a questo proposito l'intervento dei tecnici comunali e della ditta Cuore Verde che hanno messo in sicurezza l'area interessata, procedendo inoltre alle verifiche sullo stato di salute e stabilità della pianta stessa, che è stata rimossa per garantire la sicurezza dei passanti. I tecnici non hanno escluso tra le possibili cause del distacco un fulmine. Non essendo necessarie ulteriori restrizioni, domattina, anche a fronte delle previsioni meteo favorevoli, si svolgerà regolarmente il mercato cittadino. Tantissime le chiamate e richieste di aiuto giunte al centralino dei vigili del fuoco per segnalare piante cadute, finestre rotte, cornicioni pericolanti e soprattutto allagamenti. In centro storico, in prossimità di Piazza Duomo, pioggia e vento hanno ribaltato fioriere e tavolini di alcuni locali. Il maltempo è frutto di una perturbazione atlantica che proprio nelle scorse ore ha attraversato il nord Italia e di conseguenza anche il piacentino. Si tratta di un passaggio temporalesco che dalle aree occidentali come Valtidone e Valtrebbia si è spostato anche in città e sugli altri settori del nostro territorio, hanno fatto sapere gli esperti di meteovalnure.it. Da domani invece dovrebbe tornare il sereno, con temperature attorno ai 30-31 gradi per quanto riguarda le massime e 18 gradi per le minime. Grazie a tutti.